Ancora l'azione che ha portato alla 4-3, gran palla di Nuscerino, gran palla di Cassano, grande staglio. E' fantastico, Cagliari è fantastico, questa immagine è meravigliosa, è meravigliosa. Superato il terzo minuto di recupero, si continua a giocare, ma è la pallone della Milan. Sulla pallone c'è Bambomella. Cerca Ibrahimovic, deve solo tenere palla e la Milan è game over a Lecce. E strega nel primo tempo, dopo aver visto l'imparatro della crisi, dopo aver chiuso il primo tempo sotto di tre gol, si impone con un clamoroso 4-3. E' la grande giornata di Kevin Prince a Boateng che segna tre gol in 14 minuti. Poi la trentattesima, in quel partita di Epes e vanno tutti da Kevin Prince a Boateng che è stato lo straordinario protagonista e dopo di lui. Il protagonista è stato questo signore, Adriano Grigliani.